Noi abbiamo situazioni nei quali, per esempio, visto il grande coinvolgimento che vuole dare il governo, i sindaci non sanno neanche che gli vengono mandati dei clandestini sul loro territorio e stiamo parlando di clandestini e lo ribadisco, perché intanto gli amministratori locali che conoscono il territorio e lo gestiscono, dovrebbero loro essere coinvolti in primo luogo. Abbiamo visto i casi, vi avete fatto vedere uno, dove con poche centinaia di abitanti si arriva a 85 clandestini che mandano, che è una follia, le foglie governative. Ma seconda cosa, bisogna sottolineare un attimo qual è la situazione reale. La situazione reale è che durante le primavere arabe, quindi non soltanto la Lime, c'era la Tunisia, l'Egitto nella guerra civile, gli sbarchi in Italia, sapete quanto sono stati? Un terzo rispetto al 2014 e non facciamo il paragone drammatico rispetto al 2015. Significa che quando si vanno a... Si sono passate delle ere geologiche intanto, da quella data. Infatti là c'era la confusione totale nel Nord Africa, che avevamo gestito decisamente meglio, non a caso in pochi mesi eravamo riusciti a limitare e bloccare gli arrivi. Ma seconda cosa, vi sembra normale che noi siamo un paese che incentiva l'arrivo di clandestini sul territorio nazionale? Perché stiamo parlando di clandestini ed è ovvio che l'Europa dice, trattiamo su chi ha diritto e scappa da una guerra, e su quello siamo d'accordo anche noi ad accogli, chi scappa da una guerra deve essere difesa e tutelato, ma non possiamo smistare per tutta Europa i clandestini. Schengen prevede non solo la libera circolazione interna all'Europa, ma che gli stati nazionali difendano i confini. E noi quando avevamo firmato che non era stato Maronia, quanto dice il PD, che ha le idee un po' confuse, nel 2003 Dublino 2, perché era stato fatto? Perché gli sbarchi in Italia, aspette quanti erano? 13 mila. Il problema qual erano? Erano i paesi dell'est Europa che non controllavano i confini, facevano entrare chiunque e venivano sul nostro territorio nazionale. Allora noi dicevamo, se voi non controllate i vostri confini, i clandestini ve li tenete, ed è quello che ci sta dicendo l'Europa adesso, perché noi stiamo facendo una politica, paghiamo la marina militare per andare a prendere i clandestini, se andate a vedere nel centro dell'Eur di Roma, dove ci sono i coordinamenti della marina militare, andate a vedere dove arrivano le nostre barche, arrivano quasi sulle coste libiche per andare a prendere i clandestini, questo cosa comporta? Che si favoriscono i viaggi della morte, aumentano i viaggi e quindi aumentano le morte in mare, scafistici guadagnano e sono gli stessi scafistici che poi finanziano lì.